La realtà di riferimento della serie A. E' stata inaugurata a Palazzo Lascaris la Galleria Carla Spagnuolo intitolata l'ex consigliera regionale e primo presidente donna dell'Assemblea dal 1990 al 1995. Ospiterà fino al 18 ottobre la collezione Palazzo Lascaris composta da 70 opere di autori italiani e stranieri di 800 e 900 mai esposte prima al pubblico. Un nuovo tassello nella storia delle esposizioni di Palazzo Lascaris in concomitanza con l'apertura della nuova galleria.